Canta nelle piscine per portare sempre del buon umore Questo è Abano Dal profondo del tempo, l'it ufficiale di Abano Terme fortemente voluta dall'amministrazione comunale spalanca le porte del territorio euganeo ai giovani e al turismo giovanile Il video della canzone del rapper Marco B-Side mette in risalto location e simboli di forte impatto scenico del territorio euganeo non tralasciando le terme, la caratteristica più importante della città Questo è stato un progetto nato sostanzialmente da un'idea del comune di Abano quando abbiamo iniziato questo percorso insieme e abbiamo cercato di creare un prodotto musicale e quindi un videoclip che fosse affacciato ad un pubblico prettamente giovane per differenziarsi un attimino da quelle che sono state le attività di marketing che sono state fatte sul territorio, appunto, al turismo giovane La consigliera Adriana Ottaviano aveva richiesto la probabile collaborazione di quello che poteva essere un pezzo messo in musica su un testo nato da una scuola media del comune di Abano Ho preso questo testo, l'ho rivisto completamente e ho pensato di decontestualizzare completamente quello che poteva essere il potere del messaggio e il valore fondamentale del territorio, quindi l'acqua termale Ho cercato di descriverla in un modo solare in modo che tutti, indipendentemente dalla fascia giovanile o a quella più adulta potessero adattarsi e riscoprire quello che è un territorio che ha delle grandissime potenzialità Luca, finalmente un qualcosa per i giovani, era ora? Sì, infatti era ora, anche perché è da anni che stiamo lavorando per svecchiare sempre più questa immagine delle terme e delle acque termali perché terme non è solo una, diciamo, terapia curativa ma è anche una filosofia di vita, un modo di vivere e ovviamente il target al quale bisogna puntare per un futuro di crescita anche del territorio sono ovviamente i giovani Diciamo che per la gioventù fa bene un po' tutto il contesto quindi l'acqua sicuramente è l'elemento naturale, le cure naturali devono essere parte la cultura dei giovani, oggi medicina classica con medicine naturali viaggiano allo stesso modo, allo stesso tempo i giovani sono ancora più attenti del passato a questo e finalmente quindi si cresce anche con uno spirito di innovazione Io mi sono occupata, diciamo, della coreografia, del pezzo quindi con i miei ragazzi, sono i Jam Station Crew siamo campioni italiani di street show e abbiamo avuto il piacere appunto di collaborare con Marco e tutti gli altri e fare questo pezzo appunto per avvicinare i giovani perché comunque è nostro un gruppo di giovani professionisti ballerini e quindi insomma abbiamo cercato di incrementare anche il ballo appunto nel video per avvicinare anche i giovani ballerini Io parlo da ballerina, avendo subito interventi alle ossa, ginocchia, questo e quello Io veramente ho trovato un beneficio estremo, davvero quindi dico a tutti i giovani di venire nelle piscine termali perché sono veramente veramente curative a livello proprio osseo quindi venite